Siamo con Pietro Sbreglie, ci troviamo qui alla Trifola Bianca di Vezzadalba, ristorante-pizzeria che avete in gestione dal 1 gennaio scorso, però voi siete in Piemonte come ristoratori dal 2014. Allora Pietro, ovviamente emergenza Covid-19, vista dal vostro punto di vista, quello professionale, quello della vostra categoria, che sappiamo che è tra le più colpite dalle restrizioni. Adesso quest'ulteriore proroga di 15 giorni per il Piemonte della zona rossa. Pietro, qual è la situazione per quel che ti riguarda e per quel che riguarda il tuo locale e poi tocchiamo altri argomenti. Salve a tutti, la situazione è molto molto critica perché comunque sono ben 5 mesi che noi non lavoriamo. Gestendo prima ancora un altro ristorante-pizzeria a 100 metri da qua, in 13 mesi abbiamo fatto 5 mesi di lavoro e sinceramente sono molto molto pochi. Uno non deve guardare solo il ristorante, ma dietro di noi c'è tanta gente che lavora, ci sono dipendenti, ci sono le aziende che ci forniscono il vino, ci sono tante persone che lavorano. Noi ci fermiamo, si fermano tutti. Noi non sappiamo più come andare avanti perché la situazione è molto molto critica. Sperando che ci faranno aprire il più presto possibile, poi non si sa, poi dobbiamo aspettare, però non ce la facciamo più. Pietro, per parlare così un po' più nel concreto, se hai voglia di dare dei numeri, l'incidenza che ha avuto, soprattutto al discorso Covid, negli ultimi mesi, perché comunque calo di fatturato, ovviamente le spese da sostenere, ma poi di fatto comunque la chiusura che sappiamo i danni che porta. Allora, noi come ristorante abbiamo avuto un calo del 58% e tanta roba, quindi aspettiamo, cioè non sappiamo veramente cosa fare. Speriamo che noi alla ripresa, quando ci daranno il via libera, dovremo lavorare. Aspettiamo tutti i clienti, che anche loro ci danno molto conforto nel chiamarci, nel dire possiamo venire, non possiamo venire. Noi siamo arrivati a un punto dove da decidere se aprire, andando contro le regole, o aspettare. Adesso decidiamo cosa farsi perché è difficile, è molto difficile. Voi state facendo servizio delivery, servizio takeaway? Noi facciamo servizio delivery, però è molto poco, perché comunque siamo a Bezza d'Arba, un paesino di 2000 abitanti. Non hai un popolazione molto, cioè non c'è tanta popolazione. Allora, a volte vai a fare delle consegne, molto a fare 10-15 km e portare delle pizze, un piatto di pesce, è troppo poco. Il nostro lavoro si basa sul ristorante, sul tavolo. Avendo finalmente un locale dove vanno 700 persone, non penso che abbiamo problemi di Covid. Quindi aspettiamo soltanto che ci danno il via libera. Allora, nei giorni scorsi, prima di Pasqua, tu, in quanto rappresentante della provincia di Cuneo, sei stato a Bologna. Avete fatto una manifestazione in un autogrill, a pochi passi dal capoluogo emiliano, ovviamente per protestare contro le chiusure, dove, insomma, facevate partire a scaglioni i camion dall'autogrill, quindi non avete bloccato di fatto l'autostrada. Però, insomma, quello è stato poi un monito. Tra l'altro c'è stata recentemente, ieri, questa manifestazione nazionale giù a Roma. Sì. Che tra l'altro noi, appunto, della tua visita, tra virgolette, giù all'autogrill, abbiamo dato conto, perché grazie a quello che ci hai mandato, insomma, l'abbiamo pubblicato. Sì, noi poi lì siamo riusciti a Bologna, siamo riusciti anche a fermare, non bloccare, a fermare, a rallentare l'autostrada per una decina di chilometri, avendo avuto un confronto con le forze dell'ordine, che sono sempre gentilissimi. Noi non facciamo la lotta alle forze dell'ordine, perché loro ci proteggono, quindi noi cerchiamo di avere un apporto di amicizia, perché comunque loro capiscono le nostre difficoltà. Allora abbiamo avuto un confronto con loro e ci hanno fatto occupare, ci hanno fatto percorrere l'autostrada per andare a casa a un'andatura di 20 km l'arri. Quindi anche lì siamo riusciti, nel nostro piccolo, in un intento a farci ascoltare, sperando che arrivano le notizie, arrivano anche ai capi supremi e si diano una mossa a darci una mano sostanziosa. Tra l'altro tu aderisci anche all'associazione Mio, che è il Movimento Italiano Ospitalità, tu sei un membro di questa associazione. Ieri c'è stata anche la manifestazione a Roma, dove hanno partecipato molti miei colleghi, io purtroppo per impegni presi prima non potevo esserci, e ci dissociamo dalle brutte persone che si sono infiltrate ieri nell'aggressione tra carabinieri, tra polizia e manifestanti, che non c'entra con i veri ristoratori. Erano persone che si sono lì in mezzo, introfolate per fare casino. Sì, che non è proprio il momento. Noi andiamo, se andiamo a protestare, andiamo a protestare con pentole e cucciotti, più di quelli non possiamo andare a protestare. Esatto, con il camice da pizzaiolo, il gran piugue da pizzaiolo. Senti, tra l'altro, parlando di pizzaioli, mi dicevi prima che il 31 maggio prossimo, proprio qui nel tuo ristorante, ci sarà un festival della pizza di pizzaioli, è una specie di concorso che poi porterà ad una manifestazione a livello nazionale. Parlacene un po', ovviamente, si spera di poterlo fare in sicurezza, ma di poterlo fare... Sì, sì, noi abbiamo già rimandato perché doveva essere fatto prima, però il 31 maggio dovremmo poter finalmente farla. È una pizza tour regionale, dove tanti pizzaioli si sfideranno per poi accedere a una finale a livello nazionale. Noi avremo la tappa regionale Piemonte, dove si svolgerà per la prima volta qua a Bezza d'Alba, nei nostri locali. Sperano la partecipazione di tanti pizzaioli e di tanti appassionati della pizza che potranno assaggiare vari tipi di pizza. Pietro, per chiudere la nostra chiacchierata, insomma, ovviamente il vostro obiettivo è quello di riaprire il prima possibile e poi di poterlo fare come lo avete già fatto sostanzialmente la scorsa, a tarda primavera e poi l'estate, di poter lavorare in sicurezza, numero ridotto, rispettando le regole, ma di fatto di poter accogliere i vostri clienti. Sì, noi abbiamo 700 coperte, quindi lo spazio a noi non manca. Abbiamo spazio esterno, spazio interno, quindi possiamo accogliere tante persone nel rispetto delle distanze di sicurezza. Quindi ci devono solo far lavorare e spero che lo facciano presto.